venerdì 2 di agosto ore 7 e 20 ben ritrovati a tutti voi amiche amici di rossini tv un buon inizio di giornata tutti voi che ci seguite in questo nostro consueto spazio informativo del mattino lo spazio di buongiorno rossini spazio che come sempre vi trasmettiamo in diretta dai nostri studi pesaresi di via degli abeti venerdì 2 di agosto siamo pronti come ogni mattina a dare uno sguardo sulle notizie del territorio sguardo che come di consueto rivolgiamo prima ad una delle nostre aree geografiche in particolare una delle più riconoscibili quella di piazza del popolo di pesaro webcam dall'alto sul cuore del centro storico pesarese che come vedete da qualche giorno ha visto sgomberare l'area dal maxi palco di fronte al palazzo delle comune rimangono riconoscibile la sfera e la fontana al centro qua andrà nelle prossime settimane allestito invece un nuovo palcoscenico più piccolo per gli ultimi eventi di pesaro capitale della cultura il meteo entriamo in una due giorni particolare si vede qualche annuvolamento lieve nel corso della giornata odierna con temperature comunque sempre sostenute ma non con i picchi dei giorni scorsi si va su pesaro secondo il supporto web di 3b meteo soltanto a lievemente superare i 30 gradi poi naturalmente si va a temperatura anche superiore per quello che riguarda il meteo percepito ci sarà invece un peggioramento con probabili rovesci nella giornata di domani come vediamo anche qua con la mattina con possibili temporali vedete sulla grafica che riguarda la giornata appunto delle 3 di agosto andiamo a vedere anche il meteo del resto della regione marche situazione analoga con varie situazioni di annuvolamenti in una giornata comunque di tempo tutto sommato sereno ed ora le notizie quelle delle prime pagine cominciamo dal resto delle carlino cronaca di pesaro opera maestra giallo prima del 2020 e l'anno di nascita dell'associazione che però beneficio di 20 mila euro dell'aspis anche nelle 2019 e la foto notizia di prima pagina indischiati dalle mucillagini la piccola pesca in ginocchio l'allarme degli operatori taglio alto una notizia che abbiamo sviluppato anche ieri nel nostro tg gonfiava i costi del super bonus denunciato imprenditore sequestrata una ferrari california indagini su 42 n residente a fano in garage aveva anche due arli davidson poi botte risposta tra il sindaco biancani e il direttore dell'azienda sanitaria territoriale di pesaro alberto carelli spreco di posti e secondo biancani per quello che riguarda una palazzina inutilizzata a fianco al pronto soccorso no servono per le pandemie la replica dell'azienda territoriale sulla sanità anche michela vitri che denuncia un infermiere deve assistere 82 anziani si parla di carenza di personale nelle rsa la cronaca amarotta inseguito e pestato per una salita stradale un 66enne finisce all'ospedale protesta pesaro strisce pedonali appena fatte e subito sbiadite e ancora ad urbino le ultime tre caselle della giunta gambini che nomina rossi fedeli e fedrigucci completata dunque la giunta del comune di urbino le notizie di sport il calendario dell'avuelle i primi due mesi saranno un tour de force ottobre novembre a tutto gas per l'avuelle che debuterà in casa contro vigevano e poi filippo lavora per la nba al fianco dei campioni la storia di un pesaresi di 27 anni che lavora negli uffici nba di madrid andiamo alla prima pagina anche del corriere adriatico in questo venerdì 2 agosto titoli piuttosto differenti da un'analisi sui musei che fanno il pieno con i tour a pesaro ottimi numeri delle presenze turistiche nei luoghi della cultura fondamentale l'apporto delle guide grande attesa per le visite alla rocca e poi argomento di cui ci siamo occupati anche nelle scorse settimane la riapertura della strada rive del faro il collegamento tra castel di mezzo e la spiaggia una strada interrotta da anni e che va verso il ripristino anche qua il meteo dopo la fa il rischio grandine ma la siccità non molla ad urbino gambini nomina altri tre assessori in giunta dunque ne avrà nove questo la giunta extra large derivata anche dal riconoscimento di urbino capoluogo fanno alla festa del male del mare ricordati uoitila e la tragedia del 64 si parla poi dell'aeroporto voli per roma e milano basta perdere tempo ora fate questo bando anche qua il caso scoperto dalla guardia di finanza raggiro del super bonus sequestro da un milione e mezzo di euro denunciate imprenditore sigilli a beni e conti sotto chiave una ferrari e due arley davidson e poi la droga nascosta nella cassetta delle lettere episodio di un arresto che riguarda il territorio di pergola ed eccole dunque le due prime pagine in questo venerdì 2 agosto per quanto riguarda i due quotidiani locali resto del carlino e corriere adriatico cominciamo la consultazione all'interno restando proprio sul corriere e si va sulle pagine regionali a fare il punto meteorologico break contemporanei e grandine ma resta l'allarme per la siccità per domani sono previste piogge con abbassamento delle temperature ma la prossima settimana torna l'alta pressione attualmente siamo a un deficit idrico del 34 per cento questo per quanto riguarda la globalità della regione marche andiamo sulle notizie di pesaro con l'analisi del degli afflussi turistici in particolare nei luoghi della cultura musei ville teatro i tour fanno il pieno e si torna a rocca costanza questo è il bilancio anche dell'assessore vimini sui nuovi tour museali allestiti dalle comune ottimi i numeri delle presenze di turisti nei luoghi della cultura fondamentale l'apporto delle guide grande attesa per la visita alla fortezza rocca costanza che dovrebbe riaprire alle visite proprio in probabilmente la prossima settimana utilizzate tanto anche le navette sul san bartolo navette gratuite che ricordiamo collegano pesaro con i principali luoghi del san bartolo fino a gabice mare e poi inizia il lagosto ricco di iniziative delle beato sante ne abbiamo parlato in diverse occasioni nell'ultima settimana spiritualità verde cultura un mese con i frati minori si parte oggi con la festa del perdono domenica dedicata a bimbi e famiglie e poi un beato sante che è stato anche riqualificato sono stati conclusi i lavori nel santuario con il completamento della riqualificazione di refettorio e chiostro beato sante ora aperto completamente alle visite andiamo avanti con le notizie del corriere adriatico ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro tg il caso opera maestra stella polare è cominciata la commissione atti e garanzia delle comune quella reputata insufficiente dal centro destra qua vedete marco lanzi che presiderà questa commissione dopo la bocciatura del consiglio comunale alla commissione d'indagine specifica lanzi dice convocheremo i dirigenti gli assessori opera maestra e stella polare e poi la procura affida l'indagine alla polizia e alla finanza verifiche sugli enti e sulle due società ieri la conferenza del centro destra che vi abbiamo mostrato vogliamo capire se questo era un sistema richiesta di accesso agli atti edito puntato su matteo ricci e poi botte risposta ieri tra biancani e la direttore dell'azienda sanitaria alberto carelli che il sindaco chiede di aprire subito alla palazzina f il direttore dell'ast spiega è impossibile dopo questo lo scambio di vedute dopo il soprologo di biancani al san salvatore carelli intanto boccia anche le protelle le proposte avanzate da biancani sulla cittadella della salute la finanza scopre il raggiro del super bonus e questo da un milione e mezzo di euro c'è anche una ferrari denunciato imprenditore edile 42 anni di origine siciliana residente da anni a fanno avrebbe gonfiato i costi per ottenere la massima agevolazione dunque maxi sequestro in questa operazione della guardia di finanza che vi abbiamo illustrato anche nel nostro telegiornale di ieri proseguiamo con la strada rive del faro da castel di mezzo fino alla spiaggetta sono partiti i lavori di pulizia e messa in sicurezza e dunque dovrebbe tornare a accessibile il percorso pedonale dal borgo di castel di mezzo fino al mare ancora attesa invece per la messa in sicurezza della strada del mare di fiorenzuola andiamo su urbino sono stati nominati gli ultimi tre assessori da maurizio gambini dal sindaco gambini al terzo mandato il primo mandato con urbino capoluogo dunque nicola rossi frank fedrigucci e la confermata francesca fedeli completano il quadro della maxi giunta da nove assessori e sempre ad urbino vedete qua parte l'attesa edizione la decima di urbino place jazz tre appuntamenti oggi e domani torna il diciamo l'artista di punta urbinate raffael gualazzi e poi ad agosto ad urbino è sempre festa del duca quattro giorni di fasti rinascimentali con la rievocazione della pace tra il monte feltro e i malatesta dall 11 al 14 di agosto da urbino passiamo a fano la tragedia del 64 il papa vent'anni dopo i due eventi ricordati alla festa del mare alle 21 al porto filmati e testimonianze sul fortunale che fece quattro vittime e sulla visita di uoitila nel 1984 poi un servizio dall'ospedale che vi abbiamo documentato anche ieri migliorano ulteriormente le prestazioni dell'ospedale santa croce di fano anche grazie ad un'importante donazione della fondazione carifano si tratta di un ecografo d'avanguardia per urologia specializzato nella prevenzione del tumore alla prostata donazione che vedete qua che è stata portata dalla fondazione carifano ecco qua anche il servizio di ieri un upgrade di prestazioni intanto valerio beatrici direttore di urologia dice ora serve il secondo robot e poi saltamartini ribadisce anche la garanzia saltamartini che vedete qua assessore regionale sanità nell'occasione ha ribadito come a fano restano i 50 posti letto promessi torniamo sul corriere adriatico vi abbiamo dato notizie in questi giorni del caso particolare dell'atto predatorio sulle oche le anatre e il cigno che erano animali che stazionavano stabilmente sul canale albani emergono dubbi sull'utilità del canale tenuto in secca per mesi ieri c'è stato un sopralluogo non ci sono stati altri atti predatori ricordiamo che due mattine fa sono stati trovate una decina di carcasse di animali appunto di volatili uccisi ieri non è stato non ci sono stati episodi analoghi sopralluoghi che comunque fanno ricondurre questo episodio ad un attacco o di lupi o di cani ancora da verificare proseguiamo con un festival quello dei suoni delle alte marche suoni attraverso i quattro elementi 19 e 20 proposti 9 comuni dal 7 agosto al 26 ottobre torna il festival dell'unione montana catria e nerone e poi quercia crolla sulla strada sfiorata la tragedia un ragazzo in scooter riesce a evitare l'impatto l'albero era fradicio davvero un episodio molto pericoloso che è avvenuto nel territorio comunale di san costanzo nella frazione di stacciole qua vedete i lavori per liberare questa stradina interrotta dalla quercia crollata ricostruito il primo di tre ponti a serra santa bondio uno dei comuni colpiti dall'alluvione 2022 la gratitudine del sindaco caverni acquaroli presente per la promessa di baldelli mantenuta e poi malore fatale addio al noto ristoratore marco rosati gestiva con la campagna la lampara di cesano lutto per la cittadina di mondolfo marco rosati che aveva appena 55 anni e poi andiamo alle notizie culturali di delle corriere adriatico con alcuni appuntamenti vi segnaliamo che ci sarà il concerto di raff a marotta con self control 40esimo anniversario self control domani al molo arena per l'anniversario del brano che lo ha reso famoso torneremo sul corriere adriatico anche per le notizie di sport ora passiamo all'approfondimento interno al resto del carlino dopo avervi mostrato i titoli in prima pagina andiamo a partire dalla doppia pagina dedicata al caso opera maestra sempre ad aprire da settimane le edizioni del carlino quando inizia tutto si pone la domanda il carlino spuntano soldi addirittura prima della nascita l'associazione viene fondata nel 2020 ma nel 2019 compare tra i beneficiari di 20 mila euro dall'aspes e qua c'è il riepilogo di tutti i fondi assegnati alle due associazioni dal 2020 ad oggi un riepilogo che è stato di fatto aggiornato dal carlino giornata dopo giornata e che ora arriva ad un totale accertato di 556 mila e 28 euro e poi ieri vi abbiamo mostrato il punto del centro destra all'attacco accesso agli atti per vedere se c'entrano aspese pescheria l'anzi e i suoi vogliamo proprio capire se anche il presidente pieri l'assessore vimini si scriveranno al club a suo insaputo inaugurato dall'ex sindaco tutte dichiarazioni che abbiamo mostrato anche ieri nel nostro telegiornale con questa via di indagini nonostante la negazione della commissione di inchiesta è partita invece la commissione di controllo atti e garanzia ieri la prima riunione qua vedete l'anzi con il capogruppo dell'opposizione pd marco perugini piccola pesca in ginocchio invischiati nelle mucillagini non si lavora più ora aiutateci appello dei pescatori dei barchini del porto reti sporche motori intasati dal muco viscoso così non riusciamo a pagare le spese e i dipendenti a rischio il lavoro delle famiglie servono contributi straordinari qua vedete alcune una raccolta di pareri delle carlino per quanto sta avvenendo con le mucillagini nel porto scusate non nel porto ma in generale nel litorale adriatico per una situazione che si trascina ormai periodicamente con picchi e rientri di emergenza da settimane e poi c'è il caso i casi burocratici che riguardano il porto abbiamo parlato già in precedenza del caso del club nautico arenato nella riapertura del suo ristorante per un vizio burocratico di autorizzazioni tra autorità portuale e capitaneria ieri c'è stato un summit in prefettura alla presenza del sindaco biancani della autorità portuale della capitaneria di porto si cerca di trovare una soluzione al caos urbanistico un'autorità portuale che darà giorni una risposta anche sul club nautico il caso limite ad esempio quello di un capannone delle cantiere navale che è stato restituito al demanio e poi duello sul pronto soccorso alla nuova e inutilizzata no serve per le pandemie posti letto d'emergenza botte risposta tra il sindaco il direttore generale carelli il primo aveva evidenziato lo spreco il secondo dice locali non autorizzabili come vi abbiamo detto poc'anzi anche sul corriere adriatico casa aura un infermiere assiste 82 anziani ma perché la regione non programma la denuncia di vitri sul caso della residenza per anziani di santa colomba dal 12 arriva un fuoriturnista ma resterà solo un mese le ferie sono un diritto anche per questi lavoratori e poi carlino riporta oggi la storia di un giovane pesarese di 27 anni si chiama filippo gennari e lavora negli uffici della nba a madrid uno dei due uffici europei l'altro si trova a londra della massimo campionato di basket planetario io al fianco delle stelle dice gennari pesarese dopo aver studiato alla bocconi vengo da una città appassionata di basket e questo ha contato in questo percorso segnalazioni di strisce pedonali righe fatte subito consumate per quanto riguarda alcuni casi in città se non durano per niente qual è la ragione consistente questa una delle segnalazioni al carlino e poi ieri mattina in comune il prefetto emanuele saveria greco ha accolto una visita istituzionale istituzionale tutti quelli che sono i sindaci che sono stati il 9 giugno eletti per la prima volta con questa carica nella provincia di pesaro e urbino una promessa comune lavorare in rete per le emergenze di siccità e di sicurezza come ogni venerdì poi il resto del carlino dedica una pagina intera agli eventi di capitale della cultura focus su luigi sakamoto in realtà mister risuona l'ultimo concerto che il musicista regalò kagami fondo immagine tridimensionale in movimento con il mondo reale dal 30 agosto al 12 settembre con tre repliche al giorno dalle 17 alle 23 e poi parte la narrazione di kantiano capitale al quadrato questa la prossima settimana prevista dal progetto 50 per 50 capitali al quadrato che parte dal 5 di agosto con appunto il borgo alle pendici del catria dall'area interna a pesaro successo per il tour capitale e rossignano vanno forti i due percorsi tematici allestiti dal comune tema acqua per quanto riguarda il territorio dalla siccità aperto il pozzo di sant'agna sant'anna mancano 500 litri al secondo lunedì ci sarà un nuovo summit con la protezione civile e poi presidenza del lato il centrodestra fa l'autogol forzano il voto per lanciare la candidatura di barbieri sindaco di mondolfo ma i conti non tornano il sindaco di pergola non vota e dunque non si trova la maggioranza e poi una notizia di altro genere quella che riguarda valle foglia pronta a far ripartire il festival delle commedie dialettali seconda edizione che riparte dal 5 agosto dopo il successo della prima edizione della scorsa estate di nuovo sanità di fano i 50 posti letto previsti per fano restano qui l'assessore salta martini in visita alla città rassicura è già deciso e l'atto aziendale di asta arriverà entro settembre poi come detto la donazione del nuovo upgrade l'ecografo per il tumore alla prostata con il contributo di fondazione carifano un macchinario appunto per questo tipo di screening dice anche il primario beatrici con una seconda piattaforma abbatteremo il caso delle liste d'attesa il caso anche qua è della guardia di finanza super bonus costi gonfiati di un imprenditore che girava in ferrari la finanza scopre come detto un imprenditore qui c'è anche il nome si chiama calogero cucchiara 42 anni imprenditore nato da grigente ma residente da anni a fano a capo di un consorzio che ristrutturava edifici sequestrati un milione e mezzo compresa una ferrari e anche due harley davidson oltre a 400 mila euro il caso dei volatili uccisi nel canale albani di fano mettiamo fototrappole nel canale l'idea del crassi il centro recupero animali selvatici dopo strage di occhi e cigni la proposta per individuare gli animali che lo frequentano e capire chi siano stati i predatori come detto resta l'ipotesi lupi ma non solo la cronaca marotta inseguito e pestato per un diverbio di strada un giovane colpisce più ripreso un 66enne accusandolo di averlo urtato con l'auto l'aggressione fermata da persone richiamate dalle urla la violenza di questo ragazzo che ha tirato fuori dall'abitacolo l'anziano e l'ha gettato a terra colpendolo ripetutamente a calci un episodio è avvenuto a marotta ieri pomeriggio in via dalmazia mentre un 27enne residente a pergola è stato trovato in possesso di 80 grammi di hashish con condanna sei anni poi pena sospesa e anche qua la notizia di questo crollo della quercia in una regione di san costanzo con un ferimento lieve per un giovane che passava lì in motorino ma come detto poteva davvero andare molto peggio questo episodio proseguiamo con le notizie del resto del carlino il sindaco gambini di urbino completa la giunta nominati rossi fedregucci e fedeli tre nuove assessori si dimetteranno dal consiglio comunale per lasciar posto ai primi non eletti ieri c'è stato anche un incendio con due ettari tra bosco e macchia andate a fuoco a san rocco nel comune di cantiano indagano i carabinieri sulle cause di questo rogo urbino che si prepara la festa del duca ci sarà un programma ricchissimo non solo divertimento e rievocazioni anche quest'anno più spazio alla parte culturale con conferenze maria francesca caspini dice tra le novità la collaborazione con i rotari esposti i modellini delle rocche del ducato e poi ancora intervista al segretario di confartigianato di ancona peso urbino marco pierpaoli i piccoli centri hanno potenziale dobbiamo sostenerli una confartigianato che scommette sul ruolo dell'entroterra e poi vediamo notizia di alcuni appuntamenti a cominciare da cagli con il palio dell'oca sfide sapori musica e divertimento da domani primi appuntamenti città ci sarà una bella atmosfera sospesa tra medioevo e rinascimento mentre a pesaro prosegue il ricco programma della ventesima edizione di vesperi d'organo a cristo re oggi il settimo appuntamento con alessandro buffone nella chiesa di san giovanni via passeri musica e letture da un testo di papa francesco e ancora parliamo anche del bike tour questo percorso di ciclismo ora sì che c'è un circuito al via il percorso da 270 chilometri presentato un itinerario permanente per mountain bike e bici gravel un investimento per il territorio federico scaramucci tra i soggetti coinvolti in questo progetto si dice si riscopriranno suggestive colline dell'alta valmetauro e del foglia ed ora come sempre andiamo a dare il buongiorno ai tanti che ci salutano in questo venerdì 2 agosto diamo il buongiorno a dornella ad anna a simone a michela filippo lorenzo tiziana in tanti che commentate soprattutto le notizie riguardanti la sanità come tiziana che dice anche aprendo il padiglione che medici mettiamo nuove aggettoni recuperiamo quelli migrati nel privato un fenomeno che era iniziato già prima del covid tema sanità che continua a fare discutere soprattutto in questo caso per quello che riguarda la carenza del personale andiamo ora alle notizie di sport cominciamo dal ques il quotidiano sportivo del resto delle carlino cominciamo dalla vispesaro mentre ci sono scorrono le tante pagine dedicate alle olimpiadi intervista a uno dei main sponsor della vis campanelli di lc mobili più vicini per crescere salvarci in anticipo francesco responsabile commerciale dell'azienda che è il secondo sponsor dice abbiamo aumentato notevolmente il contributo al club questa intervista che si affianca alle notizie di campo come l'ufficialità dell'ingaggio del portiere classe 2004 vukovic proveniente dal pisa e domani alle 18 c'è la prima amichevole al benelli della stagione contro il fossombrone squadra di serie di andiamo avanti con il fano polemiche sull'iscrizione all'eccellenza quattro consiglieri che hanno votato no al parere legale della figici scritto a mano tifosi di ferminiano contrario ospitare i granata qua vedete uno striscione di tutt'altra tenore di rispetto all'accoglienza per quanto riguarda la città di ferminiano nel fano con questo caso di un fano esiliato e un fano parallelo che sta per nascere che verrà presentato oggi mentre sempre oggi vengono presentati i gironi di serie d dove viene dove è inserito il fossombrone per il secondo anno mentre dal calcio al rugby è stato inserito nuovamente nel girone 2 la pesero rugby nella massima serie di rugby girone 2 che significa di nuovo una geografia per quello che riguarda il una pesero inserita con le squadre del nordest italiano il campionato inizierà il 13 di ottobre e terminerà il 27 di aprile inizierà invece il 29 settembre il campionato della vl nella serie a2 e ieri è stato dopo il preambolo con la prima giornata è stato presentato l'intero calendario della della serie dalla lega pallacanestro dicevamo prima giornata in trasferta a nardò e poi due partite in casa consecutiva il 2 ottobre la vl ospiterà vigevano il 6 ottobre appunto quattro giorni dopo appuntamento con avellino primi due mesi che saranno un tour de force di impegni ravvicinati e dunque è una vl che debutta di mercoledì dunque in infrasettimanale alle 20 e 30 con un avversaria da altri tempi ci saranno quattro turni infrasettimanali fino a novembre e poi l'ultima giornata che sarà in casa contro contro verona e per quanto riguarda un campionato che si concluderà il 26 aprile calendario che potete analizzare in questo questo specchietto riepilogativo proposto dal resto del carlino andiamo anche allo sport del corriere adriatico con il quale concludiamo la nostra odierna rassegna stampa cominciamo anche qua dalla vl con anche qui potete analizzare tutto il calendario per quanto riguarda giornata per giornata di queste di questo ricco programma che comincia come dicevamo il 29 di settembre a nardò e poi il 2 ottobre la prima in casa contro vigevano proseguendo con le notizie di sport andiamo al vispesaro c'è un'intervista al direttore sportivo michele menga la vis di stellone dice dimostra grinta mai avevo visto una squadra così tignosa per tutti l'obiettivo di disputare un campionato di minor sofferenza ricordiamo che l'ha visto lo scorso stagione si è salvata alla al play out con la re canatese e poi l'ufficialità di antevukovic portiere classe 2004 tesserato dal pisa il fano si presenta oggi il nuovo fano in comune alla conferenza della nuova società che punta l'iscrizione in promozione alla guida del play del club una bandiera granata come mei con alcuni imprenditori locali alle spalle dunque fano che riparte dalle categorie inferiore ma riparte con una dimensione costruita con soggetti locali mentre resta il fano di guida e c'è una clamorosa spaccatoria come detto nella figici dubbi sulla squadra sull'iscrizione della squadra che attualmente è destinata ad esputare l'eccellenza ospitata dalla città di fermignano queste le ultime notizie di questa rassegna stampa odierne in questo 2 di agosto momento informativo che concludiamo come sempre dandovi dando uno sguardo su quelli che sono i prossimi appuntamenti sul nostro canale 80 a cominciare da quello fisso del venerdì pomeriggio con la lettura il commento al vangelo della domenica a cura di don marco di giorgio appuntamento che alle 17 30 con le repliche domani alle 10 30 e alle 16 e domenica alle 8 e alle 11 di mattina e poi estate capitale i cibi dal mondo alla baia flaminia settima puntata di questo nostro format estivo dedicato a tutto ciò che avviene in questa particolare estate di pesero capitale della cultura l'appuntamento è come ogni venerdì alle 21 e 20 e poi questa sera alle 21 e 40 la 78esima edizione della sagra delle pesche di monte labate una delle mostre delle sagre più longeve dell'intero territorio in interrottamente attiva dal 1945 vi mostreremo tutto questa sera appunto alle 21 e 40 e poi vi aspetto alle 19 e 30 per una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news prima edizione anche in diretta su facebook e poi le repliche alle 20 e 30 23 30 e mezzanotte e mezza e come ogni giorno seguente alla messa in onda alle 6 e 30 di mattina e alle 13 e 30 ed è davvero tutto per questa edizione di buongiorno rossini vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia dei programmi di rossini tv ero